A Giarre tiene banco la questione relativa alla mozione di sfiducia al sindaco Bonaccorsi. Potrebbe rivelarsi determinante il giudizio della Corte dei Conti sullo stato finanziario dell'ente, il servizio di Antonio Carreca. Sfiducia sì, sfiducia no. La questione rimane ancora calda ed aperta a Giarre. Mentre il sindaco Roberto Bonaccorsi rimane cauto e sceglie un profilo defilato, non commentando i recenti accadimenti politici, in città e non soltanto tra gli addetti ai lavori, la tematica rimane al centro delle discussioni. Le dimissioni, lunedì scorso del capogruppo del nuovo centrodestra Antonella Santonoceto e dell'altro componente il gruppo, il presidente del Consiglio Comunale Francesco Longo e la contestuale nascita del nuovo gruppo Insieme per Giarre, hanno dato il là, neanche tanto velato, al partito che vorrebbe accelerare l'iter per presentare la mozione di sfiducia al primo cittadino. I numeri occorrenti adesso ci sarebbero, visto che l'ex maggioranza si è ridotta a sei rappresentanti e la restante parte continua invece ad ingrossarsi. Ma sull'opportunità di procedere con un atto del genere sembrano esserci ancora diverse perplessità. Anche l'opposizione, insomma, cerca un'omogeneità sulla questione che al momento non sembra esserci. Lo spartiacque decisivo può essere rappresentato dal giudizio della Corte dei Conti sullo stato finanziario dell'ente. Già a lunedì prossimo è attesa la presenza in aula del primo cittadino, chiamato a relazionare il Consiglio sull'audizione avuta a Palermo. Già in quell'occasione potrà delinearsi un quadro più chiaro degli equilibri politici a Giarre.